La scelta di questa sera di giocare con Allegretti, Bulbas e Poeta Unido significa anche una scelta di sfriggere di più e quindi il tuo ruolo in questo caso come si è sviata? La scelta è sempre il MIS, però mi sa per come era pure il campo, che era un po' pesante, per dare un po' impressioni in avanti, penso che se l'ha pensato così. Come ti si trova in questa situazione? Bene, bene. Sapevamo che ero una squadra che gli piace gestire la palla, una squadra forte, però alla fine abbiamo fatto bene. Sbattavi molto, voi tentavi sempre dicendo gli accentranti per trovare il tiro, l'occasione del tiro? Cercavo sempre lo spazio, che era quello che chiedeva il MIS, di girare in tre davanti e non stare sempre fermi in una posizione chiusa, diciamo, sempre girare intorno noi tre. Infatti tra le linee, a mio parere, hai dato parecchio fastidio alla difesa del Cavazaro, soprattutto nel primo tempo. È vero che avevate un avversario, forse, sulla carta più forte di voi, ma c'è manca dal Vimponese per vincere questa gara? Noi l'abbiamo giocato di uguale a uguale, diciamo. Noi abbiamo preso la palla sempre là dietro del centrocampista loro, perché sapevamo che era una squadra che parteva sempre, pure con gli sterni. Dopo ci è mancato il gol, non abbiamo avuto fortuna in queste cose, però secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Grazie. Ok? Grazie. Grazie a voi.